Eccoci qui a Casvegno per la prima gara stagionale del Kids Tour, quest'anno abbiamo veramente un'ottima partecipazione, tanti ragazzi in tutte le categorie e speriamo bene i ragazzi crescono e possono allenarsi per questi grandi obiettivi. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Io sono Giovanna, faccio parte della giuria, oggi era la prima gara di apertura del Kids Tour con una grande affluenza, questo fa ben sperare per la nuova stagione, con tanti ragazzi, con tanta voglia di correre e tutti si sono comportati molto bene. Siamo a Mendrisio alla gara di apertura della stagione scolari e Kids Tour, abbiamo avuto un'ottima partecipazione, siamo contenti del risultato dell'apertura stagione, abbiamo avuto circa 80 corridori al via nelle 5 categorie e speriamo che ci sia successo anche nelle prossime gare. La prossima gara sarà a Malvaglia il 2 di maggio.